Ricorda, non smettere mai di sperare. Ti sembra difficile? Non smettere di sperare. Tutti ti vanno contro? Non smettere di sperare. Il mondo a te, intorno, sta crollando? Smetti in quel caso di sperare, perché il mondo... Ah no, ah no, ah no, pure in quel caso, anche se il mondo crolla, tu non smettere di sperare, però il mondo sta crollando, cioè, non c'è più speranza... Ah no, in quel caso, perché la speranza è l'ultima a morire, ho capito. Quindi, in quel caso, se il mondo crolla, tu aspetta e spera. Ah no, aspetta, aspetta, ma perché è passivo? Perché chi muore sperando, però, muore... Quello è volgare e non ci... Ma scusa, ma se io gli do un in bocca al lupo, tante, tante care cose, eh? E non facciamo che poi non ci sentiamo. Può andar bene? Speriamo.